Il rincaro dei costi energetici inflisce sui costi di produzione nella filiera agroalimentare e ora farne le spese potrebbe essere la pasta al sugo, lo afferma Coldiretti. L'Italia è ai primi posti nel mondo per la produzione di polpe trasformati. Nel 2021 ha coltivato oltre 71.000 ettari a pomodoro per un raccolto di oltre 6 miliardi di chili. Ora la mancanza di un accordo sul prezzo del pomodoro per pochi centesimi al chilo mette a rischio tutta la produzione di salsa e passate made in Italy, favorendo il prodotto estero.